... ... ... 2014 Donato Alvitero e Matteo Amarcio percorrono il percorso insieme ai signori come cane il gatto, 10 euro un applauso per questo spettacolo bellissimo che ci stanno a tutti i nostri spettacoli, i nostri spettacoli, i nostri spettacoli, i nostri spettacoli signori signori un applauso bel donato all'intero bene signori e signori allora grazie, grazie al pubblico, grazie e un arrivederci all'anno prossimo, grazie a tutti voi, grazie ancora signori signori un ringraziamento al presidente del campionato gincana 2014 Rocco Argentiero, grazie